Con Valeo sostituisci con facilità il tuo filtro carburante non avvitato. Per cambiare il filtro servono stracci, guanti, detersivo, cacciavite, filtro nuovo, guarnizione filtro. Alza il cofano e individua il filtro nel vano motore. Metti uno straccio intorno al serbatoio del filtro. Usando un cacciavite, svita il morsetto. Scollega il tubo di aspirazione del carburante. Svita la vite del supporto filtro. Rimuovi il supporto lasciando il filtro nel suo scompartimento. Rimuovi il filtro vecchio e avvolgilo in uno straccio per prevenire la fuoriuscita di olio. Rimuovi la guarnizione usata del coperchio. Lubrifica la guarnizione del filtro con il carburante. Sostituisci la guarnizione tappo con una nuova. Lubrifica la guarnizione del nuovo filtro con il carburante. Monta il nuovo filtro sul tappo. Sostituisci le viti del tappo del filtro. Collega il tubo di aspirazione del carburante. Stringi il morsetto. Avvia il sistema di alimentazione girando la chiave di accensione come indicato nel manuale di istruzione del veicolo. Accendi il motore e lascialo acceso per diversi minuti fino a che non viene raggiunta una velocità stabile dei giri del motore. Controlla che non ci siano perdite nel circuito. Non buttare il filtro usato nei rifiuti. Portalo nell'officina più vicina. Valeo raccomanda di sostituire il filtro ogni 30.000 km o ogni due anni durante la normale manutenzione del veicolo. Grazie per la visione!